Cosa sento? Sento Saren Head? O me lo sto immaginando? Oh beh, è meglio che giochi a basket! E cosa sta succedendo? È un terremoto! Sicuramente Saren Head è la sua sirena! Vado in terrazza a controllare adesso! Cosa? Niente! Non vedo Saren Head! Almeno non è sulla spiaggia! Oh! Oh! Sento la sirena! Ma non viene dalla spiaggia! Viene dall'aggiù! Dal bosco! Dove c'è il bosco là sotto? Adesso che devo fare? Oh! Ho un'idea! Prendo la pistola ma per vincere Saren Head ho bisogno dell'aiuto di Stas! Vado a prenderlo! Stas! Stas! Cosa c'è che non va Odisseo? Ho bisogno del tuo aiuto! Non hai sentito la sirena di Saren Head? Dobbiamo trovare dove si nasconde! Dove si nasconde? Dove potrebbe nascondersi? Abbiamo distrutto Saren Head! Non esiste più! Penso che sia tornato! Che sia rinato di nuovo! E che ora voglia vendicarsi di noi! Odisseo! Sei sicuro di quello che dici? Sì! Sì! Sono sicuro! Hai sentito la sirena? Dobbiamo assolutamente trovarlo! Sì! Amici! L'ho sentito anch'io! Sì! Sì! Allora vado a prepararmi! Prendo anche le armi e sono pronto per la guerra! Sì! Sì! Andiamo! Bene Odisseo! Ora che siamo tutti armati dove cerchiamo Saren Head! Non so dove siamo ma non devono scoprire che li stiamo cercando perché si arrabbierebbero! Perché dovrebbero arrabbiarsi? Non capisco! Vengono sempre nella nostra città e distruggono tutto! Perché arrabbiarsi adesso? Perché è così! I Saren Head sono molto pericolosi! Ed è per questo amici che dobbiamo dare loro una lezione! Ehi! Ehi fratello! Vieni qui! Vieni qui! Sì! Vieni qui! Ti dico una cosa! Eh amico! Forse sai dove si nasconde Saren Head? L'ho visto! È andato da quella parte! Ma giù dove? Nel bosco? Sì! Sì! Grazie amico! Oh! È andato nel bosco! Il che significa che si sta nascondendo lì! Oh! Ottimo! Quindi è nel bosco amici! E noi lo troveremo perché noi siamo G.A.L.A.R.I! Andiamo Odisseo! Andiamo a distruggerlo per sempre! Dove potrebbe essere questo Saren Head? Sì! Che cos'è Odisseo? Qualcosa mi sembra strano qui! Oh! Cosa c'è Odisseo? Credo che sia Saren Head! Vediamo amici! Vediamo! Oh! Guardate l'enorme impronta! Enorme! Sì! E questo significa che è passato proprio di qui! È andato di là in quella piccola città! Forza amici! Andiamo a salvare il mondo! Corriamo! Bene Odisseo! Penso che ci siamo eh! Sì Stas! Abbastiamo la voce per poterlo sentire! Odisseo! Forse ha scoperto che la stiamo inseguendo e si è spaventato eh! Oh Stas! Di cosa stai parlando? Ok Odisseo andiamo a cercarlo ok? Sì andiamo! Oh my god! È qui da qualche parte! Da qualche parte qui! Oh! Oh! Che succede Odisseo? Forza nascondiamoci! Odisseo! Quel terremoto è stato sicuramente causato da Saren Head! Ha appena fatto un passo! Sì Stas! Hai ragione! Hai sentito? Sì amici è Saren Head! Ed è da qualche parte! Dobbiamo trovarlo amici e distruggerlo! Sì andiamo! Andiamo! Oh 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 amici amici! Mentre cerchiamo Saren Head avete un compito da G-Alarmi! Dovete scrivervi! Entro 5 secondi! Stiamo facendo il conto alla rovescia amici! Iniziate! 2 3 4 5 Iscrivetevi! Chiunque sia iscritto in tempo è fantastico! E chi non l'ha fatto si iscriva subito! Oh Stas! Senti! Ci stiamo avvicinando sempre di più! Sì ci stiamo avvicinando! Ci stiamo avvicinando a Saren Head! Lo sento sempre più vicino! Opa! Odisseo! Eccolo! Lo vedi? Sì lo vedo anch'io! Oh! Oh Odisseo! Credo sia ora di distruggerlo! Ma non deve fare del male ad altre persone! Dimmi quale è il piano! Ascolta! Tu rimpicciolisci Saren Head e io lo distruggo! Buona idea amici! Ora inizio da sparargli! Va bene Odisseo! Sto sparando! Stas! Non l'hai colpito! Riprova! Ok Odisseo! Ci provo! No cavolo amico! Sta scappando! Odisseo! Sta scappando! No amico! Come ha fatto a non colpirlo? Sì abbiamo avuto una possibilità ma l'abbiamo persa! Abbiamo perso l'occasione amici! Non perdiamo mai! Non ci arrendiamo mai! Ora lo prenderemo! E lo distruggeremo di sicuro! Salveremo l'umanità! Vero? Forza! Eh? Sì! Solo gie l'armi! Mettete mi piace! Andiamo a cercarlo! Sì! Oh! 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 La mia schiena! No amico! Molto veloce! Ma non ci arrendiamo! Corriamo! Andiamo! No amico! Sono sicuro! Odisseo! Quel Saren Head ha già raggiunto il mare! Ha nuotato nell'oceano! Non capisci! Amico! Stas! Ma sei stupido! Cosa stai bladerando? Saren Head non sa nuotare! Ma come fai a sapere Odisseo che non sa nuotare? Forse tu e lui siete amici e te l'ha detto! Oh cavolo! Saren Head non sa nuotare amico! Se hai ragione non è un uccello acquatico! È più simile a un umano solo che ha una sirena al posto della testa! Quindi è sicuramente qui! Sì amico! Smettila di perdere tempo! Di là! Di là! Andiamo! Odisseo! Odisseo! Odisseo alzati fratello! Alzati! Alzati! Sare in tempo! Pagherai per quello che hai appena fatto a me mio fratello! Mi hai fatto arrabbiare! Andiamo a prendere la tua arma! Prendila! 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 Guarda! Guarda! Ecco Saren Head che scappa di nuovo! Ma dove sta andando? Non lo so! Meglio correre lì dietro! Certo! Oh bobo! Stas! Aspetta! 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 Ho un'idea! Perché non facciamo la tregua con Saren Head anziché spararli? Parliamo con lui come ad un essere umano! Ecco perché continua a scappare! Perché ha paura di noi! Ha paura di noi Odisseo! Ma viene nella nostra città e spaventa la gente! E questo non è giusto! Sì Stas! E per questo dovremmo parlargli pacificamente e spiegargli tutti i nostri errori! No! Gli parleremo pacificamente! Hai ragione! E poi lo inganneremo e gli spareremo perché dobbiamo distruggerlo! Saren Head è il nostro nemico! Ah! Va bene! Dai hai ragione! Ok Odisseo! Non perdiamo tempo! Piano! Saren Head! Saren Head! Vieni qui! Saren Head! Ma voi siete il nostro cibo! Di cos'altro dobbiamo dotirci! Ma dici veramente Saren Head? Non è che noi mangiamo voi! Allora perché voi dovreste mangiare noi? Se hai fame vuoi mangiare del pollo amico! Una salsiccia per esempio! Le persone non sono commestibili! Esatto! Molto commestibili! E le persone più deliziose sono quelle cattive! Saren Head! Non mi piace affatto il nostro dialogo! Noi per esempio siamo brave persone! Odisseo! Non l'abbiamo scelta! Sparagli! Ti sta bene! Ben fatto Odisseo! Guarda l'hai distrutto! Ben fatto! Forza ciao Saren Head! Non andare mai contro gli umani! E soprattutto contro la G e l'Army! Sì! Siamo a casa ora dai! Sì è ora di riposare! Andiamo! One hour later! Ah Odisseo! Che vita meravigliosa senza Saren Head è! Oh Stassi! Guarda cosa c'è laggiù! No mio Dio! Siamo tornati al punto di partenza! Siamo durati! Come sono finiti di nuovo nella nostra città! Si sono arrabbiati! Sono venuti per vendicarsi! Odisseo! Odisseo! Torniamo subito a casa! Andiamo! Vai vai vai! Dove sono? Presto entra in casa! Entra in casa Odisseo! Andiamo a chiamare Dimon! Ok? Sì andiamo! Dimon! Dimon! Vieni di sotto! Presto! Ragazzi ragazzi! Cosa è successo? Cosa è successo? Saren Head sono tornati nella nostra città! Sono qui di fuori! Perché? Come mai? Non capisco nulla! Abbiamo trovato dove si nascondono! Ne abbiamo distrutto uno! E sono tornati! Sono venuti per prenderci! Per vendicarsi! Perché l'avete fatto? Siamo fregati! Dobbiamo pensare a qualcosa! Sì amici! Penseremo a qualcosa! Li distruggeremo! Perché la cosa più importante è l'umanità! Giusto! Capisci? L'umanità! Ragazzi andiamo a giocare al centro giochi! Siete la città! Sì andiamo! Guardate quanto è grande questo Huggy Wuggy! Ciao ciao loser! Perdente! Huggy Wuggy! Allora ragazzi da dove cominciamo? Io e Chris vogliamo andare al campo da calcio! Vero Chris? Va bene andate andate! E io e Maria andiamo a giocare nella sala giochi! Io Raffario andremo al parco giochi! Sì il parco giochi! Sei pronta a competere contro di me? Certo Raffario ti farò a pezzi! Vediamo! Uno, due, tre! Cosa è successo Raffario? Ti ha perso? La mia schiena! Beh sei già un nonno! Va bene andiamo avanti! Chris sei pronto a giocare a calcio? Certo che lo so! Cosa ti aspettavi ti farò a pezzi? Dai vai alla tua porta! Ok! Amici adesso guardate cosa sto per fare a Chris! Vediamo Dimon comincia! Oi! Ai! Ehi! Cosa stai facendo? Non è giusto! Oh Dimon non abbiamo ancora iniziato! E piangi già! Quello che hai appena fatto non è giusto! È un fallimento! Non voglio più giocare con te! Me ne vado! Bosto ciao! Oh amici Dimon è così cattivo! È terribile! Terribile! Maria voglio chiederti una cosa! Ti ricordi se questo enorme Huggy Buggy stava qui prima? Sono sicura che non era qui! Che strano! Perché l'hanno messo qui? Secondo me spaventa i bambini! Al contrario! A molti bambini piace molto! Guarda com'è carino! È così morbido! È come se fosse vivo! Reale! Guarda com'è morbida la sua pelliccia! È così realistico! Va bene Maria! Lasciamolo! Huggy Buggy Maggy Maggy! Andiamo a giocare come volevamo! Va bene? Arrivo! Andiamo! 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 Aspetta un attimo Maria! Non pensi che qualcuno ci stia seguendo un pochettino? Hai ragione! Anch'io sento qualcosa di strano! Dire il vero! Guardiamo! Ma! Come è arrivato qui? Come si è spostato qui? Cosa sta succedendo? Forse ci sono due giocatoli a Huggy Buggy e qui sta! È uguale! Molto simile a quello di prima! Cosa ne facciamo con lui? Dai andiamo a giocare Maria! Forza! Andiamo! Dai! Forza! Andiamo! Allora Maria guarda! A quale macchina vuoi giocare? Tra tutte le macchine che vedi! Dobbiamo pensare Stas! Prima andiamo a vedere! Andiamo! Dai! Andiamo! Andiamo! Dai Stas! Giochiamo a questo e spariamo! D'accordo Maria! Giochiamo! Ecco così! Forza! Ciao! Stas papà! Maria lasciami in pace! Non disturbami! Lasciami in pace! Stas! Dai! Lasciami in pace! Allora lasciami in pace! Corriamo! Corriamo! Aghiwaghi! Corriamo! Ragazzi! 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 Venite qui! Venite tutti qui! Che c'è? Che c'è? Che c'è? Aghiwaghi era qui! È scomparso! È scomparso? Ma come? Che cosa avete fatto? No! Non l'abbiamo toccato! C'era un Aghiwaghi vivo qui! E ci stava inseguendo! Ne sono sicuro! È stato davvero spaventoso ragazzi! Volevo mangiarci! Ragazzi! Corriamo verso l'uscita prima che ci trovi! Sì! Dobbiamo andarci nel più velocemente possibile! Sì ragazzi! Corriamo! 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 Ragazzi! 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 Dove possiamo nasconderci? Cosa facciamo? Io corro laggiù! Dove ci sono i mattoni? Ehi! Dove sono i mattoni? Perché? Io mi nascondo qui dentro! Dove mi nascondo? Ho un'idea! Mi infilo nei palloncini amici! Ragazzi sono entrato e non so cosa fare! Spero che questo sia un ottimo posto per nascondersi e che Aghiwaghi non mi trovi! È molto scomodo qui! Mi fa male la schiera e mi giro la testa! Mi nasconderò nei palloncini amici! Sono sicura che sia il posto migliore per nascondersi qui dentro! Amici sono riuscita a nascondermi nei palloncini! Spero che non mi trovi! Buona fortuna a me! Amici guardate! Aghiwaghi sta arrivando! Dobbiamo trovare una via d'uscita! Per uscire da qui! Per salvare le nostre vite! Amici grazie a Dio Aghiwaghi se ne andate non mi ha trovato! Ora devo nascondermi per evitare che mi trovi! Aghiwaghi non mi ha visto! Ora devo nascondermi di nuovo mentre lui cerca ora fuori! Mi nasconderò al forzo! Ciao! Amici! Sento che Aghiwaghi è qui vicino! Amici! Devo uscire! Devo trovare una via d'uscita! Devo andarmene subito da qui! Maria! Maria! Dove possiamo nasconderci? Non lo so Stan! Credo che le fosse migliore sia dietro il bar! Sì giusto! Andiamo! Andiamo lì dai! Nasconditi! 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 Oh! Qui! 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 Amici! La Ghiwaghi è proprio qui! Ci ha chiusi dentro! Non sappiamo cosa fare amici! Potrebbe essere l'ultimo giorno della nostra vita! Quindi amici! Fate il tifo per noi! Per tutto il nostro duro lavoro! Vi prego iscrivetevi al canale! Ecco che arriva la Ghiwaghi! Mi sta nascondendo! Oh! Dimonte! Salvo! Grazie a Dio! Sì! Ma dov'è Raffario? Non lo so! Sì! Ghiwaghi! Andiamo via da qui! Corriamo! Corriamo! Amici! Grazie a Dio! Ce l'abbiamo fatto! Siamo scappati! Sì amici! Ma cosa succederà ora? Maria Stassa e Odissea! Cosa faranno? Loro sono molto intelligenti! Non preoccuparti di loro! Riusciranno a uscire! Non preoccuparti! È meglio che corriamo! Oh ragazzi! Ho la possibilità di uscire da qui! Oh ragazzi! Corro a casa in fretta! Devo salvarmi! Oh ragazzi! Tutti sei sono andati! Ma non so dove! Corro a casa in fretta! E non tornerò mai più qui! Perché è qui che vive Ghiwaghi adesso! Maria! Credo che abbiamo una possibilità di uscire da qui! Dai! Corriamo più velocemente! Amici! Amici! Stiamo correndo a casa! Maria! Ma che sta correndo verso di noi? Ci ha individuati! Corri forza! Corri! Corri! Corri Maria! Corri! 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 Corri a casa! Andiamo! No, 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 no.